Ti piacerebbe, vero, una bella reaction al video di Pietro Michelangeli con sangue che esce da tutti gli youtuber che intervengono? Oppure preferiresti il quarto video sul pack? Eccovi accontentati, con un solo video, due colpi, il quarto video sul pack e la reaction al video di Pietro Michelangeli. Però, attenzione, intanto non si tratta della solita analisi pack vs peak, ovvero sia fare un piano d'accumulo oppure investire tutto subito. Ho già fatto tre video, ti lascio l'ultimo qui e le conclusioni sono abbastanza evidenti. In questo video diamo per scontato che tu non abbia i soldi per investire tutto subito, quindi che tu debba fare per forza un piano d'accumulo. E vado ad analizzare i tre piani d'accumulo tipici. Il più tipico è quello che fanno tutti, quello cosiddetto il dollar cost averaging. Detto, detto in parole povere, parla come te magni, investi 100 euro al mese, fissi ogni mese. Quindi sempre la solita cifra, tac, 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 a te non interessa di come stanno nel mercato, tu investi sempre la solita cifra. È quello diretto, proprio quello che fanno tutti, anzi molti intermediari, tra i quali ad esempio Direkta, offrono questo servizio automatico. Quindi ti prelevano automaticamente dalla tua liquidità questa cifra e la investono il giorno in cui tu stabilisci. Pietro però, nel suo video, eccolo qui, come puoi migliorare il tuo piano d'accumulo, il value averaging, ci suggerisce di utilizzare un'altra, adesso non lo mando in onda, l'avrete sicuramente visto, ci suggerisce di usare un'altra tecnica, il cosiddetto value averaging. E dopodiché, non contento, suggerisce anche di migliorare il value averaging perché, come vedremo anche noi in questa analisi, il value averaging ha dei lievi problemi con delle altre regole che magari illustreremo dopo. Ma che cos'è questo value averaging? Il value averaging consiste nel non investire sempre la cifra, ma investire una cifra che ti porta il portafoglio ad un certo livello. Ad esempio, nel pack tradizionale io investo 100 euro oggi, 100 euro tra un mese, 100 euro tra due mesi, idealmente ho investito 300 euro, ma il valore del mio portafoglio potrebbe essere qualunque. Nel value averaging io investo 100 oggi, dopodiché il mio portafoglio uscilla in questo mese, supponiamo che sia andato a 95, bene, se è andato a 95 io investo una quantità tale da portarla a 200, quindi investo un po' di più, 105. Se invece mi è andato a 110, io investo soltanto 90 per portarla a 200, quindi investi una quantità per far crescere il tuo capitale in maniera fissa. Qual è l'idea che sta dietro? Che è un'idea che piace molto anche a me perché all'inizio, quando l'ho guardata le prime volte, ho detto ma guarda, quest'idea spacca. L'idea che ci sta dietro è l'idea che se i prezzi vanno giù, tu praticamente stai investendo di più e se i prezzi vanno su, tu stai investendo di meno. Quindi diciamo fai una sorta di quello che si chiama il take profit, quindi quando i prezzi vanno su, tu entri con meno soldi. Addirittura potrebbero esserci dei casi che i prezzi sono saliti talmente tanto che tu non investi più o addirittura, col value averaging tradizionale, devi disinvestire. Ok, Pietro fa la sua analisi, Pietro ha un pubblico decisamente più generalista di me, quindi un pubblico forse meno avvezzo a essere massacrato di foglie Excel e soprattutto codice Python che faremo in questo video. Quindi preparatevi che se il video precedente sui buoni postali obiettivo 65 e l'altro analogo era un attimo pesantuccio, questo è il triplo. Quindi ha un pubblico molto più generalista e quindi giustamente non può massacrarlo in questo modo, io invece posso sbizzarrirmi così. Quindi Pietro ha fatto un'analisi nel suo video perfetta, però ha analizzato un caso solo. Un caso solo molto lungo, eccolo qui come vedete dal 93 al 2023, quindi un caso estremamente lungo, però è un caso solo. Qui, come ben sapete, su questo canale è tradizione non analizzare mai un caso solo, ma andare ad analizzare cosa sarebbe successo se tu fossi partito in giorni differenti. Perché capite bene che in un andamento del genere partire in giorni differenti cambia di brutto. Partire tipo il primo gennaio 2008 o il primo gennaio 2010 vi cambia tantissimo, perché il primo gennaio 2008 i prezzi erano molto su, il primo gennaio 2010 i prezzi erano molto giù. Quindi la faccenda cambia particolarmente. Vedremo quale dei tre è più sensibile, meno sensibile. Lo vedremo anche con vari indici nel mercato. Ho utilizzato un indice abbastanza classico, lo standard and poor total return, quindi solito standard and poor, ma con total return, quindi complessivo anche di dividendi, lordi, purtroppo. Poi mi sono preso anche altri indici che vanno diciamo meno bene, il Fuzz e Nib, giusto per dirne una, e mi sembra di aver preso anche l'oro, bitcoin e poi basta perché vi ho lasciato chiaramente il codice e avrete la possibilità di farlo voi. Ma andiamo prontamente al foglio Excel, eccolo qui, foglio Excel, investimento mensile, quanto investite al mese? Metto 100, così è invariabile, così signori pignolazzi, l'ho già chiamato investimento mensile con... Ok, interesse annuo, perché mi serve l'interesse annuo? Beh, per il momento non mi serve, ma potrebbe servire in futuro, mettiamo un 3% e qui ci metto quello mensile se non vi duole. Ora, chiunque abbia fatto i corsi educati e finanziati sa che più 1 alla 1 dodicesimo, meno 1, ecco quello mensile. Ok, poi per il momento incremento anno lo lasciamo perdere, inizio, supponiamo che vogliamo iniziare il nostro pack 1-1-2011. Ah, il pack qui nel foglio Excel dura 10 anni, 10 anni secchi, però potete con questo parametro inizio farlo iniziare in periodi diversi. Qui abbiamo lo standard input total return dall'88 a ieri, ieri no, qualche giorno fa, mannaggia, ok, qualche giorno fa per me che sto registrando, per voi sarà qualche settimana fa forse. Ok, benissimo, incremento annuo per il momento non lo mettiamo, dopo vedremo, è una delle modifiche suggerite da Pietro. Ok, e andiamo a riempire. In giallo abbiamo il pack tradizionale, chiamato Dollar Cost Averaging, in rosa il Value Averaging, che è quello che ci suggerisce Pietro di utilizzare, e in azzurro il Value Averaging VAP, Value Averaging Pietro, con le modifiche suggerite da Pietro. Ok, iniziamo piano piano l'MLM. Ok, qui abbiamo le quote finora, cioè inizieremo con 0 e poi avremo le quote che avevamo l'anno prima. Ok, siccome io sono un pignolazzo e mi dà fastidio avere una formula diversa dalle altre, vedete qui inizio con 0, allora mi faccio questa cosa qui, se non vi vuole, fermo un attimo il video. Ecco qui, ho messo un if totalmente irrilevante per voi, è praticamente H1, santo che nel caso in cui H1 non ci sia, non sia un numero, allora mette 0. Facciamo così, al momento è sempre 0. Poi, soldi da investire. investire. Ok, per il momento questo è esattamente uguale a investimento mensile. Quindi vedete, investimento mensile, proprio l'ho definito il nome. Quindi investo 100 euro al mese. Quote DCA da comprare. Questo è banalmente il soldo da investire diviso il prezzo. DCA sta per Dollar Cost Averaging. L'ho scritto perché poi dopo si chiameranno quote VA. Quindi qui acquisteremo 0,047 quote e così via. Oh, per i pignoloni, non questo neanche pignolazzi, per gli spacca cosiddetti che mi diranno, eh ma non si possono acquistare 0,047 quote. Benissimo, allora investiamo invece che 100, 100 milioni. Ecco. Contenti, acquistoci 47.297 quote. Ogni tanto, se fate commenti del genere, bannati per sempre. Perché i problemi in finanza spesso sono problemi lineari, come questo qui. Quindi è irrilevante spostare le unità di misura. Vi ho fatto anche l'accendo a matematico. Quanto speso? Voi direte, quanto hai speso? È ovvio che hai speso 100. Ok, perché in questo caso, nel caso del DCA, è ovvio. Ma lo calcolo lo stesso, perché poi negli altri casi non sarà così ovvio, perché non sempre spendo esattamente quanto avrei dovuto spendere. Quindi, quanto speso sono le quote che ho comprato per il prezzo. Verrà 100, ovviamente. Ecco. Segno in blu, perché è importante vedere quanto ho speso. Quote DCA totali. Le quote che ho accumulato sono le quote che avevo prima, 0, più le quote nuove che ho comprato. Eccole qui. Ok, clic clic. Ok, e vedete che si inizia a riempire. Ecco qui. Il foglio inizia a riempire. Il valore del mio investimento, uguale, le quote che ho totali, per il prezzo. Chiaramente varrà 100 qui, ma poi vedete già che, già che qui non vale più 200, ma vale 204, 304. Qui dovrebbe valere 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui dovrebbe valere 1.200, invece vale 1.186, perché, vedete, è sceso un po' di prezzo. Quindi, questo è il suo valore. Alla fine, qua in fondo, che c'è... ah no, scusate, questa riga non serve. L'ho dovuta mettere per motivi tecnici, ma probabilmente non c'è. Ho il valore finale, 34.625. Lo riportiamo qui. Ricavato alla fine, uguale. Paffete. Questo qui. Benissimo, 34.625. Ok, torniamo. E questo era facile. Questo era il pack tradizionale facile. Potete fare i giochini, potete dire, ah, se invece dell'1.1.2011 inizia in un momento pessimo, che un momento pessimo per iniziare era forse l'1.1.2008. Quindi, immediatamente, vedete, ricavata alla fine 24.000, contro 34.000. Vedete come è importante far variare il dato iniziale. Ah, volevo ripetere, qualora non fosse chiaro, che non è un video contro Pietro. Anzi, Pietro è stato da me avvisato che avrei fatto questo video. Sono andato a casa sua di persona per informarlo che avrei fatto questo video. Ha detto, sì, sì, va bene. A patto che mi aiuti a riparare il tetto. Siccome so che non ci credete, ecco qui. Ecco qui, queste sono le tegole del tetto di Pietro. Pietro potrà confermare, sono le tegole del suo tetto che è toccato riparare, ecco, visto che ho delle esperienze. Quindi Pietro è ben al corrente che uscirà questo video. Ma, bando alle ciance, torniamo qui. Vediamo, ad esempio, se io avessi iniziato 1.1 del 2000. Altro brutto periodo, mi sembra. Uh, 16.000 alla fine, un disastro totale. Ok, volete sapere, so già, volete sapere il tier. Per sapere il tier bisogna sapere quanto speso. Ora, se voi, per determinare quanto avete speso, mi fate brutalmente la somma di questo, che è 13.300 in questo caso, cioè vi licenzio. Perché viene 13.300? Ci deve essere 1.1-2.000? Vediamo fin quando va avanti. 1.1-2011. Ah, sì, a 13.200, ma ci deve essere un 100 in più. Ah, sì, in realtà sto investendo per un mese in più. Mi perdonerete, tanto è uguale. Quindi sto investendo per 10 anni e un mese. Se voi, per sapere quanto avete speso, fate la somma di questi, proprio io vi licenzio. Vi, per piacere, fate, cliccate sulla campanella unsubscribe. Perché non siete degni. Ok, perché? Perché i soldi non li avete spesi tutti all'inizio. Li avete spesi un po' alla volta. Voi, qui, per sapere quanto avete speso, dovete prendere questi 100 e attualizzarli. Perché questi 100 che avete pagato qui dopo un anno, non valga un 100. In primis perché c'è l'inflazione, ma poi anche perché avreste potuto investirli in altri strumenti. Quindi, per piacere, per sapere quanto avete speso, è vietato scrivere 13.300 in questo caso. 13.300. Vietatissimo. Ok, bisogna far calcolare il valore netto, il valore attuale netto, il VAN. E adesso avete capito perché mi serve questo interesse annuo. Mi serve per calcolare il VAN qui. Quindi, uguale XMPV, come sanno tutti quelli che hanno fatto i miei, abbiamo guardato i miei video sulle obbligazioni e cose del genere. Rate è interesse annuo. Ok. Poi, i valori sono questi e le date sono queste. Guardate, ce le abbiamo già pronte. E ovviamente non funziona. Perché non funziona? Perché vuole che io specifico esattamente da 2 a 1, 3, 4. A manina, da 2 a 1, 3, 4. Ecco qui. Quindi ho speso 11.354, che è meno di 13.300, perché non li ho spesi tutti assieme. Ok. Il TIR è questo diviso questo. Attualizzato perché siamo su 10 anni. Anzi, andiamo a guardare con precisione quanto siamo. 3, 6, 5. 3, 6, 5 ho detto. Virgola 25. Diviso la differenza delle due date. Quindi la data finale, che è qua in fondo. Ops, sono andato troppo in fondo. Dalla finale, che è questa qui. Anzi no, questa qui perché... Fatemi pensare. Bella domanda. È questa qui. Se prendo questo, è questa qui. Vabbè, però ci ho messo gli ultimi 100 per niente, praticamente qui. Vabbè. Ok. Questa qui, meno la data iniziale, che ce l'ho per fortuna qui. Ok. Doveva esserci tutto. Meno 1. Ecco qui. 3, 29. Quindi ha reso uno splendido 3, 29. Beh, considerando che questo è il famoso decennio perduto, non è neanche andato tanto male. Se investivo partendo dal 99, 2. Questo forse è il minimo che si può trovare. Se partivo invece dal 2011, chiaramente 10, 67. Nonostante stia facendo un pack, e quindi sto smussando particolarmente le perdite e i guadagni. Ok, teniamo questo di 1-1-2011, così siamo tutti molto più entusiasti. Benissimo. Ma veniamo al famoso value averaging. Quindi qui abbiamo la situazione di un pack classico. Andiamo al value averaging. Ok. Allora. Valore via target. Qui ci serve avere il valore target. Cos'è il valore target? Il valore target è quanti soldi vorrei avere, perché vi ricordate quando ho spiegato come funziona? Il value averaging, io, se per caso i miei assets sono scesi da 195, devo metterci 105 perché vorrei avere 200. Quindi, al solito, il primo sarà uguale a investimento mensile. Ok. E il secondo sarà uguale a quello di prima più l'investimento mensile. E così via. Ora, se mi conoscete, avete già capito che a me dà fastidio avere una formula diversa alle altre. Quindi metto if is number, se j2 è un numero, allora mi metti j2, altrimenti mi metti 0. Eccolo, così funziona anche per il primo. Va che spettacolo. Benissimo. Poi, quote via finora, questo è esattamente copiato da qui. Ok. Se non vi duole, ci metto un po' di... No, qui non serve neanche il dollaro. Guardate, la copio e la incollo qui la formula. Ok. E click click. Zero. Valore via finora è quote per prezzo. Prima non ci serviva, per quello non l'ho messo. E questo prezzo ci metto i dollari. Anzi, ci metto il dollaro solo sulla B, perché devo trascinarlo in giù. Sì, va bene. Mamma mia, che precisino. È pignolazzo anche Excel. Ok. Benissimo. Soldi via da investire e sono esattamente uguali ai soldi di CA da investire. Quindi, copio e incollo la formula. Ok. E giù tutto. Soldi via che investirò. Voi direte, che è? Eh, attenzione, perché qui cambia. Io ho dei soldi da investire, però non è detto che investa quelli. Vi ricordate l'esempio? Se l'asset mi va a 95, io devo investire 105. Nonostante io abbia 100 da investire, devo investire 105. Non preoccupatevi, vi terremo conto di quei 5, cioè, ti verranno addebitati negativamente. Ok. I soldi via che investirò saranno uguali al valore target meno il valore finora. Quindi, in questo caso, devo investire 100. Il valore finora è 0, il valore target è 100. Ok. Ok. Quote via da comprare. O. Uso i soldi che investirò e quindi, questo, diviso il prezzo che era da queste parti qui. Anzi, il prezzo, me lo devo ricordare, è dollaro B2. Ok. Ecco fatto. Poi, quanto ho speso? Anche qui è abbastanza, è il numero di quote per il prezzo. Quindi, dollaro B2. Ecco qui. Eh, notate che qui non spendo sempre 100, qui spendo solo 96, perché mi è salito. Qui è successo un dramma, e non è successo un dramma, scusate, sono semplicemente io che non ho ancora aggiornato tutto il resto della tabella. Quote via totali è uguale banalmente a le quote via finora più quelle che ho comprato. Nulla di eclatante. Eccole qui. E il valore via totale è uguale a valore finora per il prezzo che è dollaro B2. Ed ecco qui. Qui perché mi dà un fatti fatti tuoi Excel. Vabbè, lasciamo questo avviso di Excel. Salvo. Correggo un piccolo errore, mi sono accorto adesso. Qui dovrei andare a prendere non la colonna O, ma la colonna Q. Quindi, Q e Q ecco qui. Ah, se preferite, io adesso ho deciso negli ultimi due video di fare i fogli Excel assieme a voi. Se invece preferite che ve lo dia già fatto, perché ovviamente ve l'ho già preparato, e vi spieghi le cose, secondo me è più divertente se lo faccio io da voi così vedete anche tutti gli errori che faccio. Benissimo, allora andiamo a vedere un po' la situazione particolare qui, perché vedete quanto spendo? Ogni tanto spendo 100, ma ogni tanto di meno. Perché? Perché è salito l'asset, quindi devo investire di meno. Qui invece l'asset è sceso. Andiamo a controllare. Eh sì, è sceso da 2305 a 2227 e quindi io devo metterci più soldi. Quindi quando scende ci metto più soldi, quando sale ce ne metto di meno. Addirittura qui ce ne metto di meno. Ecco qui, caso particolare. Qui ce ne metto meno 21. Cosa vuol dire che ce ne metto meno 21? Vuol dire che addirittura devo vendere, perché il mio valore via target è 1.900 e l'asset mi è schizzato da 1.500 a 1.921 e quindi io devo vendere addirittura 21. Ora, il fatto che io debba ogni tanto vendere, quindi mi arrivo, mi entrano dei soldi, mi torno i soldi in tasca, e il fatto che ogni tanto io debba, come si dice, metterci più di quello che avevo preventivato, in questo caso di soldi effettivamente ho speso. Ecco qui, vedete, questa è la variazione. Ogni tanto è negativa, vuol dire che ho speso troppo, negativa ho speso troppo, positiva mi sono avanzati dei soldi, addirittura ogni tanto qui è 156, quindi mi sono avanzati, ops, ho dimenticato di fare, ecco qui. Poi, buffer via, ora, tutti questi soldi confluiscono in un buffer, il buffer all'inizio sarà uguale a 0, poi sarà uguale al buffer precedente più questo valore qui. Ok. Però, come avete capito, ormai a me non piace scrivere le formule in questo modo, quindi faccio un bel if is number t2 allora è t2, altrimenti è 0. Ecco qui, perfetto. Ok. Oh, faccio notare che il buffer ci sono dei momenti in cui tristemente diventa negativo. Cosa vuol dire? Il buffer è praticamente il mio conto corrente, parte con 0, poi mi avanzano 4 euro, perché ne ho investiti soltanto 96, mi restano 4 euro, poi me ne avanzano altri 6, quindi va a 11, me ne avanzano altri 10, quindi va a 21, poi devo spendere 17 in più, quindi attingo dal buffer, e questa è già una delle modifiche che ha suggerito Pietro, ma io mi sentirei di metterla direttamente qui dentro, qui nel veglio averaging tradizionale, Pietro l'ha suggerita già, ve lo faccio vedere, eccolo qui, ecco qui una delle sue modifiche, ecco qui è questa, con l'avanzo si costituisce un fondo di liquidità, il mese in cui si deve investire di più della cifra bassa si attinge al fondo di liquidità, quindi queste due modifiche, la modifica 2 e la modifica 3, io mi sono sentito di metterle già nella versione value averaging normale, perché è quello che succede in realtà, cioè in realtà non è che i soldi che ti avanzano te li bevi in birra, e i soldi che devi spendere in più li vai a rubare, chiaramente hai già un fondo di liquidità che fa questo, il problema di questo fondo di liquidità, vedete, ecco il problema, è che ogni tanto va negativo, perché qui ci ho dovuto buttare dentro 127, 149, 153, nel mio fondo di liquidità avevo 16, quindi è già andato in negativo, ok, quindi su questo fondo di liquidità io ci calcolo che ci devo pagare degli interessi, o li ottengo, quindi suppongo che questi siano soldi che o finiscono in qualche conto deposito o conto corrente con interessi se sono positivi, se sono negativi vado a debito con la mia banca, chiaramente in caso pratico non fate così in un caso pratico, in un caso pratico avete un buffer che parte già da 5000 e sono 5000 che già rendono degli interessi e se voi, se quel buffer scende sotto i 5000 semplicemente avete meno interessi, quindi potete immaginare, se volete potete fare che il buffer parte da 5000 qui, però se metto 5000 qui poi mi sballa tutti i calcoli, quindi facciamo un buffer che parte da zero, è esattamente equivalente dal punto di vista finanziario, quindi gli interessi, ripeto per i pignolazzi che mi scriveranno sotto, eh ma non è che chiedo un prestito per 11 euro, no, però in realtà sono 11 euro in meno che hai sul conto corrente principale, quindi che ti generano meno interessi, e se hai un conto corrente senza interessi, peggio per te, ok, quindi andiamo qui a calcolare gli interessi, interessi sul buffer sono, attenzione, perché sono gli interessi che frutterà nel mese seguente, quindi uguale a buffer, chiaramente, per uno più gli interessi, io gli interessi, vi ho fatto una colonna, questa, con l'interesse annuale, chiaramente dobbiamo renderlo mensile, quindi alla, neanche, alla, aspettiamo, questo interesse annuale sono andato a prenderlo dall'altra foglia, da qui, interesse anno, ho calcolato anche l'interesse mensile, ma prendo interesse anno, se voi volete fare un interesse che cambia a seconda del momento, potete modificarlo già direttamente in colonna C, ok, torniamo qui un attimo, eccolo qui, alla, ora, alla, 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 data questa meno data questa, quindi giorni passati, diviso 365,25, un bel po' di parentesi, sono necessarie, ok, o virgola 24, volete essere così precisa, considerare che ogni, ogni giro di secolo non c'è l'anno bisestile? No, spero di no, abbiamo qualcos'altro da sistemare? No, questi sono solo gli interessi, quindi devo farci un meno uno, perché se non ci faccio meno uno considero il montante, perché questi sono solo gli interessi, ok, vedete, i interessi sono veramente irrisori, un 3% per un mese solo, beh, qui sono già 300, buffer totale è uguale a questo più questo, ok, e quindi, se mi promettete, il buffer non è uguale a T1, ma è uguale a V1, ok, e giù tutti, ok, benissimo, quindi, va a 0, 4 diventa 4,1, questo se mettiamo un po' di cifre, è 4,3, ah, perché questo non è 4 esattamente, 4,1, mettiamo un po' di cifre qui, che sta facendo un po' di casino, ho capito, aumentiamo le cifre, perché, ecco qui, 4,079 diventa 4,089, ah, diventa 4,341, perché si porta dietro, un piccolissimo delta, ok, adesso rimetto le cifre all'euro, perché altrimenti si impazzisce qui, ops, non me lo fa mettere, dai, Excel, pignolazzo, ok, quindi se vedete cose strane, tipo, beh dai, neanche troppo strane, gli interessi però li voglio almeno con una cifra, e anche questo lo voglio con una cifra, per capire bene, ok, perfetto, quindi se vedete cose strane, sono soltanto arrotondamenti, quindi 4,1 che torna ad essere 4, è soltanto un arrotondamento, salvo tutto, benissimo, e direi che abbiamo fatto tutto, ma, come sta andando il nostro, il nostro VA, per calcolare quanto sta andando, dobbiamo, esattamente come per prima, prendere, al solito c'è l'ultima riga, che non serve, anzi, quasi tutta, non serve, sì, non serve, ok, ok, dobbiamo prendere questo, benissimo, più, attenzione, attenzione, più questo, questo, perché non prendo questo, perché questo, tiene conto già degli interessi, per il mese successivo, che non c'è, quindi prendo questo, più questo, quindi, R134, più T134, ok, andiamo qui, quindi è benissimo, ricavato alla fine, uguale, mi sa che faccio prima, fare così, più, ok, ecco qui, ricavato alla fine, benissimo, l'investito, attualizzato, lì, qui devo tenere conto, anche del buffer, faccio già notare, che qui, ricavato alla fine, è inferiore, questo, ci potrei scommettere, che è la stessa cifra, vediamo, allora, quanto abbiamo investito, non certo, l'ho speso, ma, devo tenere conto, di soldi, da investire, perché di questi, questi 100, 96, finiscono, nel mio pack, e 4, finiscono nel buffer, quindi devo tenere conto, di tutti a 100, quindi non sono questi, quelli veri, che ho speso, ma sono questi, sempre qui, 100, di cui 117, finiscono nel pack, e però 17, mi vanno a, erodere il buffer, quindi devo tenere conto, di questo, quindi la colonna M, quindi qui, è esattamente uguale, mi copio tutto, lo ricalcolo, per sicurezza, ma sono molto sicuro, che è uguale, le ultime parole famose, e quindi, avrò detto la colonna R, che brutta colonna R, la R, si buonanotte, non è la R, spero, è la M, ok, meno male, altrimenti, M, ed M, benissimo, ecco, vedete, è esattamente identico, il tier è chiaramente inferiore, e già abbiamo trovato un caso, inizio 1.1 2011, molto favorevole, in cui il value averaging, fa schifo, rispetto al dollar cost averaging, vediamo, giusto per la mia curiosità personale, un 1.1 1999, ok, il value averaging va meglio, sempre roba da poveri, ma va meglio, è un 1.1 2008, il value averaging va peggio, quindi ogni tanto va meglio, ogni tanto va peggio, però, a questo punto, scattano due modifiche suggerite da Pietro, la prima, la applichiamo a tutto, perché, devo applicarla a tutto, per poterlo confrontare, e la seconda, invece, la applicherò soltanto al value averaging, che così verrà chiamato, VAP, value averaging Pietro, ok, ecco qui le modifiche, la prima è questa, far aumentare il portafoglio, sempre di più con la crescita, cosa vuol dire, vuol dire che io, è inutile che ci butto dentro, sempre solo 100 euro, potrei, voler buttare dentro, 100 euro, poi il mese dopo, 101, il mese dopo, 103, oddio, questa è una crescita, forse quasi esagerata, comunque potrei far aumentare, la cifra che butto dentro, ok, il primo che mi scrive un commento, dicendo, eh ma, io l'aumento ogni anno, e non ogni mese, verrà bannato, piace questa politica, ok, perché sono, sono proprio commenti irrilevanti, faccio un incremento, mi decido un incremento annuo, ad esempio, vediamo quale riportizzato, 5%, quindi io, aumento del 5%, questo qui, mi faccio anche l'incremento mensile, aumento del 5%, perché viene la stacifra, ah scusate perché, questa è B3, è uguale a, 1 più B3, alla, che due scatole me la copio, e qui è B3, ok, 407, ok, benissimo, quindi io incrementerò, i soldi che ci metto, ovviamente questo avrà un effetto, sul ricavato alla fine, ma avrà anche un effetto, sull'investito attualizzato all'inizio, perché chiaramente, aumenterà anche questo, aumenteranno più soldi che ci butto dentro, ok, e adesso lo modifico in tutti, allora, soldi di C.A. da investire, eccolo qui, è investimento mensile, e attenzione adesso alla magia, investimento mensile, per, 1 più incremento mensile, l'ho messo tra le variabili di là, elevato alla, attenzione, sarebbe elevato alla, 0 qui, in modo che sia 100, cioè investimento mensile, elevato alla 1 nella seconda riga, nella riga successiva, alla 2 nella riga dopo, alla 3 nella riga dopo, e io, ecco cosa propongo, row, che è la riga in cui siamo attualmente, siamo sulla riga 2, quindi row, meno 2, e voilà, siamo a posto, manca parentesi, no, ecco qui, clic clic, ed eccolo che cresce, vedete, elevato alla row meno 2, vuol dire quando sono la riga 6, è elevato alla, ok, dovrebbe essere cresciuto del 5% in un anno, eccolo qui infatti, 105, perfetto, ma che bello, e in due anni, 110, no ne, un po' di più, perché c'è l'interesse composto, invece, invece è 110, se però andiamo a, chiedere un po' di cifre decimali, peggio che peggio, perché 109,8, allora, ah perché non è due anni, due anni è qui, 110, 110,3, ecco l'interesse composto, ok, benissimo, quindi i miei soldi di CA da investire, questo influenzato tutto il resto, questo, questo, direi che ci siamo, andiamo a copiare la formula, copio, e me la metto anche qui, soldi VA da investire, e mi incollo la formula, clic clic, ok, però qui devo anche modificare questo, il mio target, perché, io posso avere anche più soldi, ma se il mio target resta quello, dovrei anche aumentare il mio target, quindi è un investimento che aumenta, perché io ci butto più soldi, ma anche cresce di suo, e quindi vedete, nella formula, ci aggiungo sempre investimento mensile, ma alla 1 più incremento mensile alla rho meno 2, o meno 1, alla rho meno 1, meno 2, meno 2, meno 2, se è alla rho meno, vediamolo, no, scusate, è alla rho meno 1, perché qui, già subito ci butto dentro dell'incremento mensile, ok, no, ah, e che pirla, guardate, avevo sbagliato, avevo fatto alla, invece è pirla, ok, benissimo, clic clic, ok, quindi qui correttamente diventa 201, 302, 404, ecco il mio target, ok, ops, aiuto, ecco il mio target, salvo, e vediamo cos'è cambiato qui, oh, vedete, questi due sono aumentati, sono aumentati anche questi, di conseguenza, e già partendo 1, 1, 2008, quindi periodo bruttarello, quindi becco tutta la crisi del 2008, ma la becco all'inizio, eh, che è meglio beccare all'inizio che non alla fine, 6,99, 6, andiamo a vedere se me la becco all'inizio, se me la becco tutto il decennio prodotto, 1,1999, 2,12, 2,76, 2,011, il periodo migliore, forse, 10,18, 7,91, cambia veramente di poco, mettere, forzare questo incremento mensile di, di, di versamento, e ti è cambiato veramente poco, forzare questo, se proviamo a vedere, guardate, metto qui 0%, sì, cioè la differenza tra i due, non cambia praticamente niente, cambiano chiaramente i rendimenti, aumenta di un pochino, aumenta di un pochino, beh, perché sul mercato che sta salendo come un drago, io ci sto buttando più soldi, quindi, insomma, sto buttando più soldi, sto incrementando i soldi, ok, salvo, eh, ma non è finita qui, vi siete dimenticati, c'è l'altra modifica suggerita da Pietro, non si vende mai, al massimo si acquista 0, e io qui aggiungo anche, che, non posso mai attingere, più liquidità, di quella che ho nel fondo liquidità, quindi non posso mai andare sotto 0, col mio fondo liquidità, così faccio contenti, i pignolazzi, che saranno lamentati, che non posso andare a chiedere prestiti, quindi non vendo mai, al massimo acquisto 0, e aggiungiamo anche, la, diciamo, la regola 2,5, e con, la 2 è con l'avanzo di questo 2, il fondo liquidità, la 2,5 è, non posso spendere più di quello che ho a disposizione, più eventuale quello che mi è rimasto nel fondo liquidità, ok, andiamo qui, ed ecco qui il, questo qua, il VAP, VA di Pietro, ok, andiamo a prenderci, è praticamente identico, anzi, adesso mi copio le formule brutalmente, vediamo se mi funziona, CTRL C, sarà tutto un disastro sicuro, incolla formule, ma, per il momento sembra funzionare, sì, benissimo, andiamo a modificare, valore VAP target sempre lui, quote VAP finora sempre lui, valore VAP finora sempre lui, soldi da investire sempre lui, soldi che investirei, sempre lui, e abbiamo il caso particolare, in cui questo soldi che investirei, è negativo, perché ricordate, Pietro ci dice, mai vendere, quindi qui ci metto un bel, quote VAP da comprare, sono date da, soldi che investirei, diviso il prezzo, e io ci metto, il massimo, tra zero, e i soldi che investirei, diviso il prezzo, in questo modo, in questo modo, non posso mai, andare negativo, infatti adesso lo vediamo, vediamo, abbiamo qui, un meno 0,08, io clicco, e vedete, meno 0,08, è diventato 0,00, quindi, nonostante i soldi VAP che investirei, sono meno 53, e adesso avete capito, perché mi serve la colonna speso, la colonna speso, di per sé, è sempre uguale, alla colonna soldi che investirei, tranne quando è negativa, perché adesso questa qui è zero, c'è però un altro limite, io non posso spendere, più di quelli che ho, quindi, qui ad esempio, mi viene richiesto, passiamo alla seconda, perché è più comodo, nella seconda, mi viene richiesto, di spendere, AA3, che sono i soldi VAP che investirei, adesso sono 97, ma potrebbero essere 7 milioni, io devo controllare se c'è gli ho, quindi io investo, il minimo, tra AA3, quello che mi viene richiesto, e, i soldi che mi sono rimasti, i soldi che ho a disposizione, quindi i soldi VAP da investire, più, il buffer, dell'anno scorso, comprensivo di interessi, del mese scorso, perché dell'anno scorso, ok, più il buffer del mese scorso, comprensivo di interessi, ok, chiudo la parentesi, e ok, andiamo, ok, il problema è che quando lo tiro su qui, chiaramente, mi va tutto a quel paese, perché l'anno prima non c'è, il mese prima non c'è, if is number, AI1, metto, metto AI1, altrimenti, metto 0, e ovviamente mi da 7 errori e mezzo, eccoli qua, ok, ho finalmente tutto sistemato, ok, quindi, quote VAP da comprare, sono, prendiamo ad esempio i casi clamorosi, ecco qui, qui devo comprare 204, vedete, io comunque non acquisto per 204, perché vedete, spendo solo 104, è perché non ho soldi, cioè, attingo, anche qui, 131, qui li spendo tutti, 131, perché ce li ho, come faccio ad averli, scusate, perché 29, ah si è calato un po', si ce li avevo, 131, perché ne ho 103, e 29 di buffer, qui ne posso spendere 103, il buffer mi è rimasto 2, quindi posso spendere al massimo 105, qualcosa, dovrei spendere 154, invece spendo 106, ecco qui, questo, Pietro mi perdonerà, che non è esattamente il suo, ma l'ho fatto a pezzi le modifiche, perché qui c'è successo un gran casino, ai 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 ai, adesso andiamo a correggere immediatamente, ecco scoperto perché c'è un gran casino, me l'ho dimenticato, qui negli interessi sono in colonna C, ma io da pirla non avevo messo il dollaro, ai 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 dollari, sempre odiati, tatan, ecco qui, e adesso diventa una cosa più civile, e anzi mi fate dollarizzare in diretta anche qui, dollaro C, non cambia niente, ma mi piace avere i dollari in giro, ok perfetto, adesso è tutto a posto, ed ecco qui la splendida tabellona, ed ecco qui il risultato anche del VAP, vediamo che nel periodo d'oro, si pone diciamo una via di mezzo, tra il velio averaging e il DCA, chiaramente nel periodo d'oro il DCA, va alla grande, perché è stato un periodo in cui, i mercati salivano, nonostante fossero già saliti, quindi una tecnica come il velio averaging, che addirittura si mette a vendere, se sono saliti, si ha fruttato comunque tanto, ma non tantissimo, invece il VAP, che si mette anche lui a vendere, non si mette a vendere, si mette a investire meno, quando sono saliti, infatti se guardiamo, in questo caso ad esempio, il VAP, finisce, qui finisce con un buffer enorme, perché tutti i soldi finiscono nel buffer, cioè, praticamente non compra quasi mai, dopo alla fine, chiaramente, in questo periodo, viceversa, completamente diverso, 1,999, qui il VAP, si pone anche lui, come una via di mezzo, tra il velio averaging, e il dollar cost averaging, e perché, perché questo è un periodo in cui scende, quindi, se scende, lui cerca di investire un po' di più, quindi probabilmente ha guadagnato, in quel periodo, dopo la grande crisi del 99, spostiamoci un po', e vediamo se riusciamo a spostarci, a un poco prima della crisi del 2008, quindi un 2007, qui dovrebbe vendere, vediamo cosa è successo, no, ancora il DCA va meglio, perché prende tutto il 17, portiamoci un po' prima, 2005, mi incuriosisce, ecco qui, e non riesco a trovare un caso, in cui il VAP va meglio, 2004, qui va abbastanza bene, a questo punto, tutti noi ci crediamo, vabbè, è possibile farli variare automaticamente, e avere una statistica su questi rendimenti, certo che è possibile, certo, 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 passiamo all'agoniato foglio Python, ed eccolo qui, questa volta non vi tedio, scrivendo tutto il codice, perché già il 90% di voi, si è addormentata, ok, lo mettiamo su collab, così, chiunque mi faccia un commento, riceverà da me la risposta, prendi il foglio Python, e modificalo, ok, installiamo due pacchetti aggiuntivi, che servono, uno è YFinance, per scaricare i dati da Yahoo, e l'altro è NumPy Financial, serve semplicemente per calcolare il PV, ok, giù una sbordella di cose, installiamo un altro ammasso di pacchetti totalmente inutili, poi qui, questo scarica i dati, iniziamo con lo standard input, total return, se volete scaricare il Fuzz e Mib, eccolo qui, questo è l'oro, perlomeno, questo è il future sull'oro, però, su Yahoo ho trovato questo, questo passa il convento, se ne avete altri, questo è Bitcoin, ok, se volete altre cose, scarichiamo sotto il prezzo di chiusura, mi permetterete di limitarmi al 1980, perché qualora uno di questi iniziasse a scaricare i dati degli anni 20, ci sono anche dati degli anni 20 su Yahoo, mi sembrano un po' indietro, e vabbè, non prendere tre anni, come in un video che ho visto giusto oggi, ho visto un video di analisi finanziaria di un portafoglio altrui, prende gli ultimi tre anni, ma non gli ultimi tre anni cambiando data inizio, no, gli ultimi tre anni punto, ok, quindi, io, vabbè, non prendere, però, insomma, mi sembra un po' eccessivo andare oltre il 1980, fa un F fill, vuol dire che tutti i sabati, le domeniche festivi, li riempie, li riempie forzatamente, perché, altrimenti, mi tocca, ogni volta che inizio sto pack benedetto, mi tocca andare a controllare che non sia un sabato, una domenica, un giorno di chiusura per qualche motivo strano, quindi, ecco qui, in questo caso stiamo scaricando Staten & Poor, Total Return, per quanto ci mette, eccoci qua, dopo mezza dozzina di ore, sempre andare a guardare i dati che scaricate, eccolo qui, sì, direi che ci siamo, e anche una bella immaginina, perché, non si sa mai, sì, sembra lo Staten & Poor, qui riconosco, certi pattern, ok, qui, se volete salvarvi i dati su Excel, per poi metterli qua dentro, se per caso vi piace, questo è quello giusto, sì, qua dentro, basta che li mettiate qui, basta che copiate il foglio che vi genera lui, e lo mettete qui, sempre da 2 in giù, quindi, se volete salvarvi i dati su Excel, basta scommentare questo, benissimo, un po' di parametri, anni 10, allora, io potevo farlo molto meglio, questo codice Python, mi scuso, con gli amanti della programmazione, però l'ho voluto fare, identico a Excel, proprio, vedete, è identico, c'è le stesse formule, ho copiato le formule di Excel, avrei potuto farlo infinitamente meglio, probabilmente usando anche il sistema vettoriale di Pandas, ma, niente, l'ho fatto a manina, investimento mensile 100, interesse anno 0030, incremento anno 005, stesse variabili proprio identiche, che stanno qui, ecco le riguardate, pum pum pum, ok, vediamo, dov'è qui, eccolo qui, interesse mensile, calcolato in questo modo, i Pignolazzi noteranno già, che l'interesse mensile, invece di fare un dodicesimo, ho fatto 30 diviso 365, perché, in questo foglio, per non impazzire con le date, ho supposto che i mesi, abbiano 30 giorni, attenzione che non ho barato, semplicemente, ho fatto, non so, 10 anni, sono 120 mesi, non sono 120 mesi, sono 120 periodi da 30 giorni, cioè, io suppongo che voi iniziate il pack, e dopo 30 giorni, andiate avanti col pack, quindi, perché ho fatto questo? Perché, se avessi come farò partire, da ogni possibile giorno, se io faccio partire, da ogni possibile giorno, e il giorno che faccio partire, è tipo il 30 gennaio, già, va male, perché il mese seguente, non c'è il 30 febbraio, e mi si incasina tutto, mi viene che il pack, lo fai il 2 marzo, e succedono casini, o l'1 marzo, se è bisestile, quindi, per evitare tutti questi casini, mesi da 30 giorni, quindi, questo non è un pack, da, da, 10 anni, è un pack, da, quanti, 120 periodi da 30 giorni, devo dirlo così ogni volta, o mi consentite di dire, che è da 10 anni, quindi, è un pack da 120 periodi da 30 giorni, comunque, l'interesse è sempre annuale, e questo interesse mensile, è l'interesse, avrei dovuto chiamarlo interesse da 30 giorni, mi rifiuto di fare, questo è l'incremento, questa è la data di oggi, ok, oggi 10 anni fa, e anche qui non è 10 anni fa, vedete, 360, moltiplicato per 10, quindi 3600 anni fa, ok, questo è per controllare che funzioni di tutto giusto, eh, quindi, 3600 giorni fa, era il 26 gennaio 2014, vedete, ha sballato di un pochino, ok, e comunque, siccome io non sto facendo il paragone tra questo, e qualcosa che sta fuori da questo foglio, Python, sto facendo il paragone tra i 300, sistemi, stanno tutti e tre dentro il foglio Python, tutti e tre avranno i mesi da 30 giorni, e quindi il paragone è perfettamente lecito, il primo che commenta, anche il secondo, verranno bannati, ok, qui mi memorizzo le date, e qui mi memorizzo, cosa sta succedendo, aiuto, sei messo a girare, no, no, non volevo, fermati, fermati, ok, qui mi memorizzo le date, e qui mi memorizzo i ricavi, ok, la data d'inizio, quindi tutto questo inizio, me lo caccio qua dentro, oddio, sei lamentato, aiuto, cosa è successo qui, va bene, dov'è inizio, eccolo qui, vedete, me butto dentro l'inizio, e poi butto dentro, il valore di CA totale, valore VA totale, più il buffer VA, e valore VAP totale, più il buffer VAP, sono esattamente questi tre, sono esattamente questi tre, che mi memorizzo, e la data d'inizio, quindi ogni iterazione, mi memorizzo la data d'inizio, e questi tre, qui dalla fine avrò una distribuzione, a seconda della data in cui inizi, come è andato il DCA, come è andato il VA, e come è andato il VAP, perfetto, a seconda della data d'inizio, torniamo al Python, qui me li appendo dopo, allora faccio variare la data d'inizio, in tutto il data frame possibile, fino a dieci anni fa, perché avendo, facendo l'analisi a dieci anni di distanza, posso iniziare al più tardi dieci anni fa, altrimenti sforo coi dati, eseguo il loop su tutte le possibilità iniziali, fino a dieci anni fa, ok benissimo, poi la fine è chiaramente l'inizio, più 3600 giorni, ok, benissimo, già che ci sono, mi calcolo i soldi da investire, che sono sostanzialmente questa colonna qui, dove sono soldi, soldi vi ha da investire, sempre quella, quella 100, 101, 102, quella che aumenta del 5% nel nostro esempio, dov'è che non riesco più a tornare, eccolo qui, me la precalcolo, e la precalcolo esattamente, noterete addirittura, ho chiamato riga, potevo chiamarlo J, ho chiamato riga, per proprio farlo uguale, uguale, a quello del Python, ok, mi metto quindi in questa lista, qui c'è un più uno, per le paranoie di Python, ok, benissimo, a zero tutte le variabili, che devo azzerare, quote DCA totali, quote VIA totali, buffer, i vari buff, i vari valori, e inizio, riga 1, anche qui proprio come Python, riga 1, ok, benissimo, qui mi prendo la taffarin, faccio un resample a 30 giorni, ed è questo il motivo per cui ho scelto 30 giorni, per evitare di impazzire, con un banale resample a 30 giorni first, becco sempre blocchetti da 30 giorni a questo punto, mi tiro giù il prezzo, proprio è uguale a quell'altra, mi tiro giù il prezzo, esattamente come qui, prezzo, qui identico, vedete, quote DCA finora, quote DCA da comprare, valore VIA target, quote VIA finora, identico, identico, non ho fatto niente di particolare, soltanto che i soldi da investirmi, li sono precalcolati prima, per evitare di doverli calcolare ogni volta, guardate la formula, la riconoscete, il max, il min, è esattamente questa formula qui, devo dire, questa si chiama programmazione non sbatti, dov'è la formula qui con il max e il min, eccolo qui, guardate, ecco, max 0 min A A 3 Z 3 più, e qui dovrebbe essere identica, eccolo qui, questa è detta programmazione non sbatti, non mi sono sbattuto molto, ok, e faccio tutto, facciamolo girare, ci metterà un po', nel frattempo vado a farmi un panino, faccio in tempo addirittura andarlo a comprare, ed eccolo che ha finito, facciamo il plot, purtroppo questo plot secondo me è altamente diseducativo, perché diseducativo? Perché voi sono sicuro, siete convinti che sia l'andamento dei tre investimenti, no, non è l'andamento dei tre investimenti, è la derivata prima, come avevo già spiegato in un altro video, questo plot è, se tu investivi nel 1990, come ti andava rispettivamente il VA, il VAP e il DCA, quindi non è, ma non è che il DCA va male perché va in discesa, no, semplicemente se investivi due anni dopo andava peggio, ok, però vediamo che il DCA in tutto questo periodo è stato sopra gli altri due, e anche in tutto questo periodo, gli altri due si comportano in maniera molto simile, abbiamo qui il VA che sta nettamente sotto, qui però sta leggermente sopra, e qui è molto simile, questi sono i rendimenti, i rendimenti annualizzati, quindi qui addirittura è stato il famoso decennio perduto, che anche se entravate con i pack, vi siete comunque beccati in un rendimento negativo, su dieci anni annualizzato, riscendo addirittura al 2% di perdita, comunque vediamo che il VA, che anche a me sembrava l'idea migliore, l'idea migliore perché quando il mercato va male, tu investi di più, perché speri che sia ciclico e torni su, quando va bene investi di meno, diciamo fare un po' di take profit, beh qui chiaramente tutta la bolla dei tecnologici che c'è adesso, il VA e il DCA ha dominato, mentre il VA che invece praticamente non investe più, perché si tiene tutto a casa, è rimasto un po' molto più al palo, cioè molto più al palo no, perché comunque si porta a casa un 6%, però il VA e il DCA va meglio, qui anche nei ruggenti anni 90, questa è la internet bubble, fino qui è la internet bubble, fino qui, fino, no, qui si entra nella internet bubble, fino qui è gente che è entrata e ha preso fino alla internet bubble, che vuol dire che se è entrato nel 90 è stato fino al 2000, è entrato e ha preso fino alla internet bubble, questa discesa è gente che è entrata tipo nel 91, ed è uscita nel 2001 spaventata dalla internet bubble, uscita, ha fatto il pack, ok, qui è rimasto abbastanza stabile, qui c'è stata, qui è gente che ha preso la crisi del 2008, questo coso qui, perché è sempre 10 anni di distanza, comunque questo caso secondo me è molto diseducativo, perché voi sono convinto che ancora molti di voi, dopo che l'ho detto tre volte, sono convinti che sia l'andamento, non è l'andamento, molto più educativo è fare l'istogramma, eccolo qui, così vi togliete dalla testa l'idea che le cose si possono prevedere in base all'andamento temporale, ecco l'istogramma, sull'asse orizzontale mi sposto io da questo, sull'asse orizzontale ci sono i rendimenti, sull'asse verticale quanti casi abbiamo, ora vedete che sostanzialmente VA e VAP sono abbastanza sovrapposti, forse, 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 VA si ferma qui, si ferma questo 9%, VAP continua fino al 10,5%, però vedete il DCA, che è quello senza scrupoli, cioè quello che non scoglie fra niente se il mercato sale, lui continua a investire, è riuscito a pigliarsi il 13% qui, dall'altro lato, da questo, più o meno la situazione è uguale, forse il DCA ecco qui ha rischiato un pelo di più, se andiamo a guardare le statistiche descrittive, eccole qui, mi risposto dall'altra, eccole qui, mediana, più alta per il DCA, media decisamente più alta per il DCA, 6,4%, e il massimo, questo DCA batte tutti, 13%, e il minimo, vedete il DCA, comunque fa anche il VA e il VAP, no, anche il VA fa dei minimi, paragonabili a quelli del DCA, però, forse, un po' meno frequenti, come vedete, perché qui c'è un po' di cosa, blu in più, o un po' meno frequenti, bisogna andare a guardare cosa succede nell'ultimo, nella coda, nel 5% di coda, si potrebbe anche fare, e il VAP va un po' meglio, un po' più safe da quel punto di vista, quindi, da questi dati sembra che il VAP sia il value averaging, versione Pietro, quindi quella non vendo mai, e posso usare soltanto quello che ho nel buffer, non vado a chiedere prestiti, sia un po' più safe, come minimi, sostanzialmente uguale, come mediana, e come media, e si spinge un po' più in là, come massimi, il che mi fa pensare, che dentro la distribuzione, sia un po' diversa, perché se è un po' più safe, come minimi, e si spinge un po' più in là, come massimi, ma mediana e media sono uguali, ok, questi lo lascio agli studiosi di statistica, invece il DCA, più spregiudicato, va molto più in là, con i massimi, e chiaramente, su un indice come questo, che sta crescendo come un drago, e alla fine la sua media ne risente, andiamo a vedere però indici, che non crescono come i draghi, perché ci sono anche gli altri, perché non è detto, vi ricordo che, si parla qui, spacchiamo tanto il cappello in quattro, ma alla fine in finanza, cioè, tu non è che investi su 50 anni, tu investi su 10, forse 20 anni, quindi di tutti questi casi qui che ho citato, ne becchi due, cioè di tutti i casi che ci sono qui nell'istogramma, in questo istogramma, tu ne becchi due, magari becchi, che so, questo e questo, ma difficile, magari becchi questo e questo, o questo e questo, quindi, qui spacchiamo il cappello in quattro, alla fine, di casi ne becchi solo due, quindi, andiamo a vedere anche cosa succede, nei casi in cui non becchiamo un asset, che sale alla grande, ma uno più morigerato, e cosa c'è di più morigerato, che è l'FZMIB, ecco il nostro caro FZMIB, faccio anche il plot, per vedere quanto, eccolo, guarda che bel morigerato, a lei nel 2000, a lei nel 2007, veramente andava veramente tanto bene, si è preso una battosta, non si è più risollevato, sì, leggermente adesso, stiamo ancora sotto il 2007, sotto il 2000, ok, questo è senza dividendi, però bisogna tenere conto, questo è senza dividendi, con i dividendi, aggiungeteci un forse 2% all'anno, quindi va su, va su, dai, con i dividendi dovrei farcela, ok, anche questo lo facciamo a 10 anni, faccio rigirare tutto, ta 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 ta, ok, guardiamo direttamente l'istogram, attenzione, può sembrare fichissimo, perché tu sbilanciate verso destra, però attenzione, cosa destra, nell'altro istogramma abbiamo qui il 12%, qui abbiamo il 5%, ok, e ha una corda lunghissima, addirittura ci sono dei casi, in cui il VA perde il 12%, mamma mia, ok, niente, a parte questi casi drammatici, tutto sommato si equivalgono, forse il VA, il value average è quello più rischioso, e il VAP è un po' più stretto, questa volta il DCA non azzarda tanto, andiamo a vedere le statistiche descrittive, sono giuste? Sì, mi sposto all'altra, mediana, 1.2, tristezza, 2.0, 1.5, tutto sommato siamo lì, media, quasi 0, 1.4, 1, ok, al solito il VAP tende a mettersi in mezzo tra il VA e il DCA, e minimi, il VA fa un minimo grosso, ok, massimi, tutti uguali i massimi, no, il DCA, questa volta il DCA è più morigerato, si vede che il DCA performa male in un mercato che va, dov'è? Che va così piatto per un bel po', andiamo a vedere ben alto i mercati, abbiamo qui, mi cade l'occhio su l'oro, eccolo qui, è il future sull'oro in realtà, vogliamo girare tutto, vediamo, dobbiamo già avere il grafico, eccolo qui, amanti dell'oro, lo riconoscete il grafico dell'oro? in salita direi, non sale come le azioni, ma ha la sua salita, sta facendo tutti i conti, vediamo da quando abbiamo dati, abbiamo dati purtroppo solo dal 2000, attenzione, quindi qui facendo 10 anni siamo molto limitati, perché stiamo di fatto analizzando il periodo in cui entri, dal 2000 al 2013, e non il periodo in cui entri prima, quindi forse è il caso di accorciare un po' i dati, ma vabbè, teniamoci 10 anni anche in questo, ecco qui, qui cosa è successo, DCA qui è andata alla grande, perché è più spregiudicato, e questo è un periodo in cui saliva, vedete saliva quasi in maniera costante, adesso non lo vedete perché il grafico è schiacciato dai valori alti di qua, oh qui non è che sia andato male, ripeto, non è che sia andato male, semplicemente rendeva meno, passato da rendere il 10% a rendere il 6, però non è che è andato male, poi tutto il resto sono veramente molto simili, andiamo a vedere l'istogramma, l'istogramma è niente, direi, ah beh, il DCA ha fatto, mi sposto all'altra, ha fatto qui un'esplosione, quindi il DCA nel caso di salite costanti per lungo tempo, riesce a farti tenere il passo, mentre il value averaging non ti fa tenere il passo, vedete, la media che è poco più alta alla fine però, quindi la media è poco più alta perché c'è anche questa coda negativa, fatto 14 di massimo e 0 di minimo, la mediana è uguale praticamente, e per finire vediamo Bitcoin, beh, con Bitcoin, io avendo visto questi altri, con Bitcoin non avrei dubbi, Bitcoin che è una valuta che ogni tanto fa degli strappi mostruosi, una valuta, una criptovaluta, che ogni tanto fa degli strappi mostruosi, non avrei dubbi, ecco, vediamo nel grafico, vabbè, lo conoscerete, ecco gli strappi mostruosi, quando fa degli strappi mostruosi, qui se sei in DCA, dollar cost averaging, vai su, vai su, vai su tanto, se invece in value averaging, non vai su più di tanto, ok, però abbiamo un problema con Bitcoin, i dati sono da 2015, se io prendo 10 anni, non ce la faccio neanche a fare una simulazione, quindi mi perdonerete se io prendo 4 anni, quindi pack per 4 anni su Bitcoin, so già che non mi perdonerete, ma più di così non si può fare, vediamo, sta girando, eccolo qui, eccolo qui, infatti come ho detto, dollar cost averaging, vedete, sta sempre sopra gli altri, qui, l'unico periodo in cui non sta sopra, è dal 2017, al 2019, e questo vuol dire, attenzione, vuol dire entrata in questo periodo, e resti 4 anni, quindi entri nel 2017, e ci stai fino al 2021, strano che non sia sopra, in questo caso invece, il V value averaging, versione di Pietro, vedete, riesce a stare dietro al DCA, invece quello che va male, è il V value averaging tradizionale, vediamo l'istogramma, l'istogramma dice quello che, solita cosa, cioè il DCA ha qui le code, eccola qui, i dati, la media, DCA ha 43%, V value averaging 28%, V value averaging Pietro 36%, la mediana, più o meno gli va dietro, ok, in questo caso, possiamo dire che, almeno in questi casi, che abbiamo esaminato, la versione value averaging, con le modifiche, quindi, non spendi mai soldi che non hai, e, vabbè, tutti i soldi ti fruttano interesse, ma quello ho dovuto farlo fruttare, anche nel value averaging tradizionale, altrimenti era ingiustamente penalizzato, e soprattutto, non vendi mai, perché, avrete notato che, il value averaging tradizionale, fa ogni tanto così, perché lì anche ti metti a vendere, e, soprattutto, non vendi mai, si pone spesso, a metà, tra il value averaging, e il tradizionale pack, anche se devo dire che, più spesso, il tradizionale pack, se il mercato sta crescendo, alla grande, gli dà, gli dà, gli dà la paglia, come si dice, come si diceva ai miei tempi, quindi, va decisamente, decisamente molto meglio, questo ovviamente, non vuol dire, che vada sempre molto meglio, perché, come abbiamo visto dai quattro esempi, sai banali, anzi, adesso, ripristino il primo, perché, se no, poi, quando usate il foglio, vi lamentate, questo, quindi, è anche molto, molto dipendente, dal, tipo di asset, che avete sotto, cioè, se l'asset è un asset piatto, è un asset che va su così, magari, andando ad analizzare, anche asset che vanno giù così, anche se, forse, anche in Borsa Italiana, ci sono dei periodi, in cui vanno giù così, bene, questa analisi, me l'avete chiesta voi, io vi dirò, che, ormai, ne abbiamo analizzate tante, di tecniche, strategie, per entrare in questo modo, entrare in quell'altro, io, comincio ad avere sospetto, sospetto non suffragato, da dati scientifici, ma comincio ad avere sospetto, che alla fine, più o meno, si comportano tutte in maniera equivalente, o meglio, ci sono dei casi in cui va meglio, dei casi in cui va peggio, ma è praticamente impossibile per vedere, l'unica cosa certa, finora, è che se fai il pack, in un mercato che tendenzialmente cresce, ti risparmi qualche perdita, eccessiva, ma ti tagli le gambe, a molte guadagni futuri, questa è la cosa che avevamo dimostrato, nei famosi tra video sul pack, qui, invece, è molto molto dipendente dalla situazione, ciao a tutti, alla prossima terribile analisi, mi piacerebbe, vero, che fosse stato più corrotto, a me sì,